Cosa è l'elettroforesi su gel del DNA? L'elettroforesi su gel del DNA è un processo utilizzato per separare le proteine e gli acidi nucleici nella biologia molecolare. Il gel è solitamente composto da un polimero reticolato e acrilamidi che aiutano a separare e analizzare diverse parti di una molecola di DNA. L'elettroforesi su gel del DNA è comunemente usata in medicina legale per determinare la sequenza specifica del DNA per aiutare a trovare il sospetto principale. È anche comunemente usato nella genetica e nei campi della biologia molecolare e della biochimica. Gli acidi nucleici e le proteine trasportano una carica positiva o negativa. Se collocati in una camera elettrica con elettroforesi su gel di DNA, ciascuna carica elettrica si sposta verso entrambe le estremità della camera. Le molecole negative caricate elettriche si sposteranno verso l'estremità positiva della camera, mentre le molecole caricate elettriche positive si sposteranno verso l'estremità negativa. Il gel separa ciascuna di queste molecole in modo che si diffondano uniformemente durante la lettura. Il gel è composto da fibre lunghe che impediscono alle molecole di muoversi per aiutare nell'analisi delle singole molecole. Il Soderm Blotting è una tecnica utilizzata nell'elettroforesi su gel del DNA per determinare la presenza o l'assenza di una sequenza nucleotidica specifica in una molecola di DNA. Il Norderm Blotting è una tecnica diversa utilizzata per identificare l'espressione genica in presenza di acido ribonucleico o acido ribonucleico. Il Blotting orientale viene utilizzato per determinare la presenza di lipidi, proteine e carboidrati in una sequenza di DNA. Per rilevare semplicemente le proteine in una sequenza di DNA, la tecnica del Western Blotting viene utilizzata nella camera di elettroforesi attraverso l'isolamento del gel. L'azimografia è anche un approccio per rilevare determinate funzioni biologiche mediante elettroforesi su gel del DNA. Viene utilizzato principalmente per studiare gli enzimi extracellulari degradanti della matrice, che catalizzano la distruzione della matrice all'esterno della cellula, nonché la membrana basale di una cellula. L'uso del gel di poliacrilammida aiuta a separare gli enzimi, che sono proteine, utilizzando un substrato proteico come la gelatina o la casaina. Questa tecnica viene utilizzata per misurare la quantità di attività di degradazione che si verifica all'esterno della cella. L'elettroforesi su gel del DNA è usata abbastanza spesso in medicina legale. È usato per separare le proteine del sangue e il DNA trovato sulla scena del crimine per determinare le correlazioni con i sospetti disponibili. L'elettroforesi su gel viene anche utilizzata per determinare un'eredità specifica all'interno della genetica, in quanto determinati DNA e proteine sono associati a razze diverse. Viene anche usato per risolvere casi di paternità per determinare la relazione relativa tra individui.